Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Dante a Mezzogiorno, il regno di Sicilia nella commedia di Francesco Panarelli, che abbiamo il piacere di avere nostro garito ospite, chiedo scusa perché ci parli di questo interessante volume. Prego, a lei. Grazie, grazie. Io per cominciare ringrazio Maurizio Calì e tutto il gruppo di Italia Medievale per avermi invitato e offerto l'occasione di essere qui in video per parlare del mio libro. Ringrazio anche tutti coloro che avranno la pazienza di essere adesso collegati in diretta e poi che ascolteranno nelle differite in video. Li tranquillizzo dicendo che sarò abbastanza breve come un po' mia abitudine, ma sarò breve anche perché penso di dare qui un'idea del lavoro che ho fatto in questo volume e per il resto poi sarà un po' inevitabile leggere il libro se dovessi raccontare tutto, prendere via molto tempo e non sarebbe neanche corretto nei confronti di chi ascolta. Ma anche per il libro non preoccupatevi troppo perché il libro è abbastanza asciutto, si consuma nel giro di un centinaio di pagine, quindi non è un lavoro di grande impegno per il lettore e ha questa dimensione anche per una mia precisa scelta. Come diceva Calì, il libro si intitola appunto Dante a mezzogiorno e è incentrato su Dante e sul ruolo del mezzogiorno nella commedia e nelle altre opere di Dante e con un tema del genere si potrebbero scrivere centinaia di pagine proprio senza alcun problema, riprendendo spunti, problemi dalla bibliografia critica esistente che è abbondantissima, enorme per quello che riguarda Dante, però io nel mio percorso, come poi vi spiegherò, avevo un'idea abbastanza precisa di lettura e di lavoro da portare avanti e non volevo che finisse un po' per disperdersi magari tra digressioni, approfondimenti che spesso si è indotti a fare quando si lavora su un tema, si vuole anche portare al lettore quello che si è letto, quello che si è fatto su un determinato tema e finisce un po' per, rischia di far perdere un po' di vista la ragione per cui si è scritto un libro, insomma qual era il filo conduttore che lo tiene insieme. E allora mi spiego molto rapidamente la genesi perché io come un po' forse chi mi conosce sa non sono un dantista, non mi occupo di Italia settentrionale e tantomeno di civiltà comunale, però nel 2021 c'è stato l'anno delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante, un po' tutto il mondo della ricerca umanistica si è in qualche modo attivato per onorare questo centenario e già questo fatto secondo me è interessante, cioè è da sottolineare, quella che è stata la mobilitazione per Dante, per il centenario di Dante, perché è la prova continua, se mai ce ne fosse bisogno, della centralità della figura di Dante e poi vedremo dei giudizi di Dante nella cultura italiana. Allora io un po' appunto sulla scia dei preparativi per il centenario sono stato sollecitato da qualche collega, io insegno nell'Università della Basilicata, quindi nel sud tra Potenza e Matera e qui la collega Maria Pia Ellero, un collega che insegna letteratura italiana, chiese un po' a noi nel 2020, tutti dei corsi umanistici, di provare per l'anno dantesco a inserire in ognuno dei nostri corsi, dall'arte alla musica, filosofia alla storia, come nel mio caso, una parte almeno del corso che fosse collegata a Dante, alle opere di Dante, nelle infinite declinazioni possibili. Dante si offre per essere veramente trasversale. Io mi insegno storia medievale, quindi dovevo necessariamente aderire a una proposta del genere, però è anche vero che io mi occupo sostanzialmente di storia del mezzogiorno, con un'attenzione particolare poi per i temi di storia religiosa, di storia del monachesimo e anche di storia delle città. Mi sono formato, è vero, a Pisa, in Toscana, nella scuola normale superiore, ma per mia scelta anche, tranne che per alcune questioni di storia monastica, appunto, non ho veramente lavorato di prima mano sulla storia dei comuni toscani. Insomma, impostare, come avrei potuto fare, un corso sulla Firenze di Dante finiva per gratificarmi abbastanza poco, cioè avrei dovuto lavorare di seconda mano mettendo insieme quello che altri colleghi hanno detto e fatto sulla Firenze di Dante e sì, certo, si può fare, ma insomma diventa veramente un lavoro di occasione. E parallelamente a queste riflessioni avevo invece in mente i canti della commedia, alcuni che si leggono, o meglio si leggevano, ora non so più, puntualmente al liceo, come quelli dedicati da Dante a Pier della Vigna o a Manfredi o a Carlo Martello, per citare le tre cantiche, nei quali invece la storia del mezzogiorno italiano, attraverso i suoi regnanti ovviamente, entrava direttamente nell'opera di Dante. E allora ho preferito a quel punto riprendere in mano la commedia e con la commedia anche le altre opere di Dante, perché non si scrive un'unica opera, e impostare un corso nel quale recuperare un po' i passi della commedia nei quali comparisse il mezzogiorno italiano. E soprattutto ovviamente le dinastie che governarono il mezzogiorno italiano, insomma siamo nel Medioevo, non è che il mezzogiorno compare così da un punto di vista della composizione sociale, compare politicamente e per comparire politicamente lo fa attraverso chi la governa e sono le sue dinastie. Quindi dinastie che vanno dagli Altavilla, fondazione del regno di Sicilia del 1130, ma il processo comincia abbastanza prima, quasi un secolo prima, con di Altavilla, sempre i Normanni, poi gli Svevi e poi gli Angioini e gli Aragonesi che si contendono il controllo del regno, anzi dei regni, e chiudo rapidamente una parentesi perché il plurale è d'obbligo quando parliamo di Dante e dell'età di Dante, perché dal 1282, e quindi quando Dante vive, scrive, il regno di Sicilia in realtà era diviso in due regni. Uno era quello di Sicilia, detto anche di Trinacria, che era retto dalla dinastia aragonese, e l'altro quello che aveva sede a Napoli ma che continua a tenere la titolazione di regno di Sicilia e che aveva perso di fatto il controllo della Sicilia, pretto dagli Angioini. Quindi c'è anche un po' questo bisticcio per cui ci sono due regni di Sicilia, uno di Trinacria e uno di Sicilia-Machestana. Allora, quindi l'idea era quella di trovare un filo di lettura dell'opera che rimettesse insieme tutti questi passaggi. Ora, il lavoro sembrava una cosa abbastanza, come dire, leggera da fare, però nel confronto con gli studenti, con l'approfondirsi poi della ricerca, sono emerse tutta una serie di riflessioni e constatazioni che mi hanno indotto veramente a continuare il lavoro in maniera più, come dire, più sistematica e per arrivare a fare una piccola monografia su questo. È stato un percorso un po' accidentato perché ho cominciato appunto nel 2020, il libro è uscito nel 2024, in sostanza, agli inizi del 2024, non che abbia lavorato per tre anni ininterrottamente a questo, però ci sono state diverse interruzioni, non banale quella legata al Covid, ma poi anche tutti i vari impegni che purtroppo l'università ci riserva. Alla fine però sono molto contento perché siamo riusciti a pubblicare con Carocci, con l'editore Carocci all'inizio del 2024, questo volume che è risultato appunto abbastanza agile come io me lo ero immaginato. Ora vi dico rapidamente, il libro poi è impostato in cinque capitoli, che non vi racconterò per intero perché altrimenti prenderemmo anche troppo tempo e ve li ricordo soltanto l'indice perché l'indice è utile per comprendere il percorso che sostiene la lettura e la scrittura. Il primo capitolo è dedicato, intitolato tra biografia e bibliografia, vi faccio vedere il libro che è questo, è molto piccolo e insomma agile come avevo detto e quindi vi riprendo l'indice. Il primo capitolo è tra biografia e bibliografia, questioni preliminari, quindi una serie di questioni generali legate all'opera di Dante che ha riferimenti al mezzogiorno, un secondo capitolo che si intitola oltre la commedia il regno di Sicilia nelle opere minori, quindi i riferimenti che non sono propriamente nella commedia e poi gli ultimi tre capitoli sono dedicati all'analisi della commedia con delle determinazioni precise. Il terzo capitolo si chiama infatti inferno svevo, il quarto purgatorio angioino e il quinto è il paradiso degli Altavilla. Ovviamente dopo il quinto capitolo c'è anche una breve sezione di conclusioni in cui si riprendono un po' i fili della scrittura, di quello che è stato detto precedentemente. Quindi come vedete c'è un disegno diciamo nell'organizzazione del testo con qualche, diciamo poi vedremo qualche forzatura forse, ma neanche tanto perché funzionale veramente a quello che volevo dire. Ora c'è una partenza su cui adesso vi dirò qualcosa di più preciso che parte dai dati generali e che serve a introdurre poi il percorso all'interno dell'opera. Perché ci tengo a ribadirlo, la mia preoccupazione costante è stata quella di seguire la scrittura di Dante, non tanto di inseguire le discussioni critiche, che non potevo ignorare ovviamente perché fanno parte di qualsiasi discorso su Dante, ma senza ignorare la critica lasciare in primo luogo la parola Dante in qualche modo. E mi spiego. La presenza del mezzogiorno italiano dei regni di Sicilia in Dante non è un tema centrale, si può dire, nella critica dantesca e me ne sono reso conto man a mano che ci lavoravo. Su Dante hanno scritto tutti e su tutto, mi viene da dire. Non c'è un verso, una virgola, una parola di Dante che non sia stato indagato in qualche modo. C'è un'ottima enciclopedia dantesca che ti permette di lavorare su tutti i singoli personaggi, siti specializzati che facilitano oggi veramente la ricerca su Dante. Eppure devo dire che un conto è leggere un canto o una parte di canto in maniera isolata, per esempio uno di cui parleremo, quello di Pier della Vigna, in maniera isolata. Altro è cercare di collocarlo in una linea che tenga in qualche modo insieme quello che Dante dice a proposito degli svevi, a proposito dei regni meridionali al cui interno gli svevi si collocano. Quindi la scelta è quella di vedere la continuità piuttosto che il singolo. E poi l'altra domanda che viene spontanea ovviamente su una scelta del genere è ma vale la pena davvero affrontare un tema del genere? Cioè se come appena ha detto la presenza del mezzogiorno nella critica è un tema secondario, vabbè anche Pro occupasse in maniera così diretta. E io devo dire che ho guardato ovviamente quello che c'è o che io ho trovato in relazione al tema e per esempio ho trovato da questo punto di vista illuminante per esempio il lavoro di Francesco Torraca. Francesco Torraca è un dantista di inizio novecento di livello altissimo che ha dedicato un'opera appunto al regno di Sicilia nell'opera di Dante che parte da una prospettiva diversa dalla mia perché se ripercorrete quel volume trovate tutta una serie di medaglioni dei personaggi che compaiono più o meno nella Divina Commedia. Operazione che non è inutile ma che non è quella che io intendevo fare. Ma quello che mi aveva colpito leggendo Torraca è che lui a un certo punto, preso dall'enfasi anche di quello che stava trattando, dice in maniera esplicita, faccio qui la citazione, una citazione che spesso faccio, noi amiamo quelli che Dante amò, odiamo quelli che Dante odiò. E dice una grande verità, cioè che Dante ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana in genere, soprattutto dall'ottocento in cui i studi sulla fortuna di Dante non mancano ovviamente. E' un segno indelebile che sta nella cultura italiana e in particolare anche nella storiografia che si è occupata del regno di Sicilia. Cioè quando dice noi amiamo quello che Dante amò e odiamo quello che Dante odiò. E c'è un riferimento anche a quello che noi pensiamo, ma una buona parte della storiografia italiana in qualche modo ha pensato in prima battuta almeno sulla storia del regno di Sicilia. Tanto per fare un esempio, tutti gli storici che si confrontano con gli angioine, con un re come Roberto I d'Angio, devono confrontarsi per confermarlo, per smentirlo, con l'etichetta che Dante dà di questo re come un re da sermone, cioè un re che serve solo a fare sermoni in chiesa, ma che non è un vero re con i criteri della regalità che noi ci immaginiamo. E quindi già solo questo, fatto che i giudizi di Dante abbiano tanto pesato poi nella nostra storiografia, rendono utile riprendere in mano i passi danteschi e vedere quello che lui ha fatto, quello che ha scritto e anche provare a capire come Dante, come e perché Dante arriva a tranciare giudizi impietosi come quello su Roberto I d'Angio, cioè quale è il percorso che lo conduce a pensare, a scrivere in una determinata prospettiva la storia del Mezzogiorno italiano. Ripeto, perché è un tema che interessa Dante, ma interessa poi anche la fortuna di Dante e la incidenza di Dante nella nostra storiografia. Ora nel mio volume c'è una rapida trattazione per collocare nel tempo le opere di Dante, che qui non riprendo anche perché lavoro veramente di seconda mano. Mi interessa soltanto dire che il tema del Regno di Sicilia compare veramente nell'opera di Dante solo dopo l'esilio, finché lui è a Firenze tutto sommato non ha questa esigenza. E il tema compare per la prima volta, a titolo pieno, in maniera consistenza, nel De vulgari eloquenzia. E torna poi, se pure con qualche sfumatura diversa, nel convivio. Ricordo soltanto che quando Dante scrive, scrive queste opere, poi scrive soprattutto la commedia, a Napoli c'è Roberto I d'Angio, Roberto comincia a governare dal 1309, mentre a Palermo c'è Federico III d'Aragona, giusto per ricordare chi sono i re durante la vita di Dante. Roberto I era stato preceduto dal padre Carlo II, che era morto prima del 1309. Nella finzione letteraria però della commedia, la commedia si colloca, sappiamo, al marzo del 1300, a Napoli era re Carlo II, quindi tutto si scrive in funzione di una cronologia che vede come re a Napoli Carlo II, mentre a Palermo c'era sempre già Federico III, su quello c'è anche continuità, quindi proprio da tenere sullo sfondo mentre io parlo. Allora, vi dicevo, il regno di Sicilia e i suoi sovrani compaiono nel De Vulgari, che è scritto quasi in parallelo in realtà con il convivio, c'è una leggera anticipazione del De Vulgari e nel De Vulgari c'è una prima presa di posizione del tutto favorevole agli svedi, a Federico II in particolare, ma anche a Manfredi, perché nel De Vulgari quando Dante comincia a fare la rassegna dei volgari dai quali partire per trovare quello che abbia le caratteristiche poi per diventare il volgare per gli italiani, comincia partendo dall'Italia meridionale, è una inversione rispetto a quello che noi ci aspettiamo nella nostra immaginazione geografica, no? Di partenza dal nord per arrivare al sud, in realtà Dante parte dal sud per arrivare al nord, è una cosa interessante che ha messo in rilievo a Medio di Vincenzi in un suo recente volume sull'Italia di Dante, che ricordo con piacere. E parlando appunto del regno di Sicilia, Dante celebra i due sovrani padre e figlio, Federico II e Manfredi, intorno ai quali si raccoglie un gruppo di intellettuali, di scrittori che danno vita a un volgare che poi lui definisce siciliano e che hanno dato poi vita nella storia della letteratura italiana alla scuola siciliana. Ma in quel caso siciliano, è stato anche questo sottolineato, è un Brandt che non vuole rimandare tanto all'isola di Sicilia, quanto alla corte del re di Sicilia, alla corte di Federico II, che è un'altra questione. Però quello che a me interessa sottolineare è che in quei passaggi c'è una, questo passaggio del De Vulgari, c'è sicuramente una celebrazione di Federico II e di suo figlio Manfredi, definiti illustri eroi. Sono appellativi che Dante non mette a caso e il figlio Manfredi viene definito un bene genitus, cioè qualcuno che è nato in maniera, in discendenza corretta da Federico. Manfredi, come sappiamo, era un figlio illegittimo di Federico II, sul quale gravava peraltro l'accusa di essere stato patricida e fratricida, cioè l'ucciso Federico II e anche il fratellastro Corrado. Sono tutte cose che Dante in qualche modo sapeva e che però espunge parlando di un Manfredi benegento. Ora, tutte grandi doti di Manfredi e di Federico che portano gli spiriti nobili a loro contemporanei ad avvicinarli, a restare a loro vicini e quindi l'aula di Sicilia e della corte di Sicilia diventa in qualche modo esemplare per quello che i sovrani dovrebbero fare. E quindi, in contrasto, c'è poi subito dopo una delle prime grandi invettive di Dante, quella aperta da Caracà, in cui attacca invece Federico III di Trinacre e Carlo II di Sicilia, che invece non sono stati assolutamente all'altezza dei loro predecessori. E qui mi fermo in questa prima, in questo piccolo esempio, perché poi una posizione simile, pur senza nominare direttamente Federico e Manfredi, si ritrova nel convivio dove si sottolinea di nuovo la necessità che il sovrano sia sempre accompagnato da filosofi, cioè da intellettuali, che lo guidino nelle sue scelte. Quindi, come vedete, l'ingresso del Mezzogiorno con Federico II e con Manfredi non potrebbe essere meno trionfale di quello che si legge nel De Vulgari, ma le cose si complicano quando, vi passo a un capitolo successivo del mio libro, si entra nella commedia, perché nella prima cantica il primo personaggio che si può ricondurre a questo percorso meridionale è proprio, il primo personaggio che compare è proprio Federico II. Nel sesto cerchio, lì dove sono ospitati gli eretici, le fiamme, il canto di cui è protagonista Farinata degli Uberti, di cui sono cavalcate, viene introdotto quasi incidentalmente l'imperatore perché Farinata alla fine dei suoi discorsi dice a Dante, qui con più di mille giaccio e qua dentro è il secondo Federico e il cardinale, cioè ci sono Federico II e il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Ora, è una, come dire, un passaggio veramente brusco, non vi ho appena ricordato la celebrazione nelle Ubaldini e poi quasi, insomma, a distanza probabilmente di pochi mesi, Dante decide di collocare Federico II nell'inferno, cosa che, sempre narrativamente del tutto libera, poteva anche non citarlo, ecco, come collocazione, ma evidentemente c'è già la scelta di collocarlo nell'inferno tra gli eretici e l'accusa di eresia non stupisce più di tanto perché era una delle accuse che accompagnava, accompagnò già in vita Federico II nella lotta con i con i pontefici, con Gregorio IX, con Immocenzo IV e quindi Dante raccoglie una tradizione che per esempio si ritrova in Salimbede e Adamo, molto ben espressa, insomma. Diciamo che c'è poco da stupirsi che lui lo collochi come eretico, però stupisce invece, come dicevo, in contrasto con quanto aveva detto su Federico poco prima in altre due opere, in realtà. E andando avanti nell'inferno, da cui la mia scelta di chiamare quel capitolo inferno svego, si vede che il cambio di passo di Federico nei confronti degli svevi, ma soprattutto di Federico II, qui non posso tacere che Manfredi poi lo ritroveremo salvo nel terzo canto del purgatorio, ma lì quasi non arriveremo. La scelta di condannare in qualche modo Federico II, più che gli svevi nel loro insieme, si delinea comunque nell'inferno stesso, perché c'è un altro canto famoso che io ho citato, quello del tredicesimo, in cui compare Pier della Vigna. Pier della Vigna era il fedele logoteta di Federico, il più alto funzionario a lui legato, che morì probabilmente suicida nel 1248, perché coinvolto, probabilmente, ma è la verità, è difficile da appurare, in una congiura contro il suo sovrano. Ora, l'episodio di Pier della Vigna è famoso tra i suicidi, nella selva in cui sono tutti gli alberi secchi in cui sono trasformati i suicidi, è un canto su cui tantissimi si sono applicati, però piuttosto che mettermi appunto a fare una interpretazione di cui non sarei all'altezza di interpretazione, diciamo, poetica del testo, a me interessava sottolineare che in questo canto Pier della Vigna in realtà propone, presenta a se stesso sempre e comunque in connubio strettissimo con Federico II, che a sua volta viene presentato come imperatore. Sono due elementi importanti, perché per un verso ci ricordano che Pier della Vigna era uno di quegli intellettuali che operavano alla corte di Federico II e che maggiormente influenzarono Federico II, no? Teniamo le chiavi del cor di Federico, dice, con un po' di, insomma, di orgoglio Pier della Vigna. E per altro verso anche che Federico II era imperatore, cioè mentre nel De Vulgari ci poteva essere ambiguità tra Federico e Malfredi perché erano re di Sicilia entrambi, qui si sottolinea maggiormente il fatto che Federico II era imperatore, viene chiamato Cesare, Augusto da Pier della Vigna e non sono scelte, secondo me casuali. E cerco di essere appunto un po' più breve perché altrimenti mi smentisco da solo. Pier della Vigna è assolutamente personaggio così eccezionale, riscattato dai versi bellissimi di Dante, però tanto lui quanto Federico sono all'inferno. E come all'inferno è anche un altro collaboratore di Federico II, Michele Scoto, io non mi dilungo su di lui, è uno di questi intellettuali che si unisce a Federico, cioè proprio attratto da Federico e si sposta presso di lui tramite con la cultura arabo, esperto di astrologia, di astronomia, e viene anche lui collocato all'inferno tra gli indovini appunto. E insieme a lui ci sono altri due indovini minori, Guido Bonatti e Lasdenti, che anche loro si possono ricondurre in qualche modo a Federico II. E quindi anche qui un altro personaggio che a Federico è molto legato, che finisce anche lui all'inferno. Mi viene da dire che un po' quella celebrazione del De Vulgari viene subito smontata perché l'eroico Federico diventa un eretico e quella cerchia di filosofi intellettuali della scuola siciliana mostra dei limiti perché Pier della Vigna è in suicida dannato, Michele Scoto è un indovino dannato anche lui perché ormai gli indovini sono legati alla magia e qualche cosa che nelle polemiche e nella propaganda del XIII-XIV secolo aveva ormai preso molto piede. E qui cerco di sintetizzare veramente tanto perché c'è un cambio di giudizio così forte di Dante su Federico II. Tanto che poi Dante salverà Manfredi, come vi ho detto, lo metto nel Purgatorio, però nel Purgatorio Manfredi si presenta come il nipote di Costanza d'Altanilla, non come il figlio di Federico II, che è una posizione un po' strana su cui poi ci sono anche dei ragionamenti da fare. Perché questo passaggio, se vogliamo, di giudizio? Una mia ipotesi è che in realtà Dante si rende conto a un certo punto che Federico aveva un duplice ruolo, un duplice ruolo che era costato moltissimo allo stesso Federico in vita perché lui aveva realizzato la unio regna di Imperium, era pre di Sicilia e imperatore contemporaneamente. E qui tutte le sue guerre con i pontifici romani e non solo. E soprattutto questo doppio ruolo creava problemi anche nella riflessione politica di Dante, in cui l'imperatore deve svolgere un ruolo universale, superiore rispetto alle realtà locali della penisola italiana, che è quella che a lui sta più a cuore, e si rende conto che con Federico aveva una situazione strana. Questo lo dico io, non lo dice Dante esplicitamente, ovviamente. Cioè Federico veniva a essere contemporaneamente arbitro di una partita, perché era l'imperatore, e un giocatore della partita perché era il re di una parte della penisola. E questo metteva un po' in crisi lo schema anche dantesco. Per cui Dante in qualche modo si libera di questo personaggio. Ed è una delle riflessioni che mi veniva appunto guardando il testo, riguardando il testo di Dante. Ora, secondo me ho preso quasi mezz'ora e quindi non voglio andare oltre, vi dico che già nell'Inferno si delinea anche un po' in un episodio legato alle descrizioni delle battaglie che si tengono nel Mezzogiorno, si delinea un passo in cui Dante dà un po' la sua costruzione e visione della storia del Mezzogiorno. Ricordando le battaglie che si svolsero in Puglia, ricorda le battaglie condotte dai Troiani e quindi la sconfitta di Canne dell'Impero Romano, quindi una dimensione imperiale, poi passa a un'età contemporanea o quasi molto più vicino a lui, in cui ricorda le battaglie vittoriose condotte da Roberto Il Guiscardo. Roberto Il Guiscardo è poi il capostipite, se vogliamo, non lo è propriamente ma di fatto lo diventa nella cronachistica che Dante legge, il capostipite degli Altavilla e dell'affermazione degli Altavilla in Italia Meridionale e poi dopo le battaglie di Roberto Il Guiscardo ricorda le due battaglie di Ceprano Benevento e poi di Tagliacozzo, cioè le due grandi battaglie che portano al trionfo di Carlo I d'Angio, quindi dall'arrivo degli Angioini in Italia Meridionale, ad anno di Manfredi, degli Svegli. Qual è il problema? È che lui colloca queste due battaglie non nell'ambito della gloria, un po' come l'ha fatto fa con Roberto Il Guiscardo, ma nell'ambito del tradimento, della menzogna, dell'astuzia, cioè di una battaglia, come dice per quella di Tagliacozzo, che fu vinta senza arma, cioè che fu vinta con l'inganno e non con il valore militare dimostrato sul campo. E con questo comincia a dare un suo giudizio pesante sulla dinastia degli Angioini, che, devo dire, qui fa da Pondan per un verso il giudizio su Manfredi, che troverete Manfredi quando viene incontrato all'ingresso del purgatorio, fuori del purgatorio da Dante, ha le ferite sul viso e sul petto, che sono ferite che dimostrano invece il suo coraggio in battaglia, cioè lui sì che aveva compattuto valorosamente a Benevento, ma per Carlo d'Angio tutto questo non c'è. Ora poi, per chi avrà la bontà di leggere ancora il mio libro, nel quarto e nel quinto capitolo io affronto in maniera più diretta la, come Dante appunto elabora il suo giudizio negativo, profondamente negativo, nei confronti degli Angioini, a cui fa da pallido contraltare quello sugli Aragonesi. I re di Aragonesi vengono quasi equiparati a quegli Angioini, ma hanno sempre un quid che li rende superiori agli Angioini, quindi non sono così condannati come gli Angioini stessi. E ne è in questa condanna complessiva, fa eccezione una figura come quella di Carlo Martello. Carlo Martello è come dire la storia mancata degli Angio, quindi si fa presto a dire che sarebbe stato un ottimo re, ma non lo è stato. E soprattutto serve a Dante per mettere in bocca a lui, che è appunto il pezzo mancato della storia degli Angioini, i giudizi più duri, più scherzanti nei confronti di Roberto d'Angio e anche di Carlo I d'Angio, quelli appunto su Re da Sermone o sulla rivolta del Vespro, che va sotto la rivolta contro la mala signoria, quella degli Angioini, che è sempre a cora di popoli soggetti, cioè che giustifica la rivolta dei siciliani e che poi anche giustifica perché piacesse tanto a critici come Torrach e anche gli storici post-unitari, perché insomma era l'eco di una rivolta contro lo straniero, contro chi assoggettava gli italiani, ma è un problema che a Dante non interessava assolutamente. E nel Paradiso invece brillano, è il caso di dirlo, gli Alta Vita. Brillano, lo dico perché nel Paradiso le anime diventano progressivamente nera luce, Dante non li vede più, ma sono grandi luci e queste grandi luci sono, per quel che riguarda il Regno Meridionale, proprio i sovrani Altavilla e con questo io mi fermo, insomma lasciandole alla lettura poi vedere come si dispiega appunto questo giudizio di Dante, negativo sugli Angioini, parzialmente negativo sugli Aragonesi e celebrativo, poi fondativo quasi anche, di un mito in relazione agli Altavilla stessi. E con questo spero di avervi dato un'idea anche e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Davvero molto interessante, io credo che la cosa migliore sia comprare il libro e leggerlo perché ne vale davvero la pena, quindi come mi abitudine ricordo il titolo che è Dante a mezzogiorno, il Regno di Sicilia nella commedia, di Francesco Panarelli che abbiamo avuto il nostro gradito ospite, pubblicato da pochissimo da Carocci Editore. Quindi grazie ancora professore per questa illustrazione del volume e a presto, intanto ricordo a tutti i nostri utenti di continuare a seguirci sul canale di Italia Medievale YouTube dove troverete tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.